Sarà la musica ad aprire l'estate dell'associazione O Castello di Chiavari, che anche quest'anno propone una serie di eventi culturali, dopo lo stop forzato per le restrizioni. Si parte sabato 17 luglio in piazza Nostra Signora dell'Orto, con Aldo Ascolese che interpreta le canzoni di Fabrizio De Andrè, insieme al violino di Laura Merione e la fisarmonica di Marco Raso. C'era questo grande desiderio di tornare alla normalità, sembrava quasi un sogno di poter fare finalmente degli spettacoli dal vivo e di poterci raccordare con la nostra gente. In quella serata approfitteremo per fare le premiazioni del tradizionale premio Pipo Raffo, premiazioni del 2020, premio Pipo Raffo, secondo anno di illustrazioni e poi la premiazione delle tesi. Si prosegue poi martedì 20 luglio con la conferenza dedicata all'attrice genovese Lina Volonghi, tenuta dal prof Gian Domenico di Caldone. Il 23 luglio serata dedicata al comico e attore genovese Paolo Villaggio, del prof Andrea Panizzi, e infine il 6 agosto lo spettacolo musicale con il chitarrista Beppe Mistretta. Tutti gli eventi si svolgono in piazza Nostra Signora dell'Orto alle ore 21. Per partecipare si possono prenotare i posti chiamandolo 0185 36 20 25 o mandando una mail all'indirizzo direzione chiocciola-associazione-o-castello.it. Purtroppo le disposizioni di sicurezza diventano sempre un po' più corpose, però quando c'è l'entusiasmo poi le cose si arriva in fondo. Tra l'altro voglio anche dire questo, ci auguriamo che sia un anticipo, essendo questo per noi un anno importante, perché facciamo i 40 anni di fondazione e dunque ci sarebbe già l'intenzione, sperando che le cose vadano sempre in miglioramento, per novembre di fare la riunione di tutte le associazioni culturali della Liguria a Chiavari e poi anche il confuoco speriamo.